E questo è giusto tributo a Andrea Bacchetti, Golden Boy, della Rugby Rovigo Delta. Una scelta di vita la sua, lui classe 88, ha fatto una scelta importante a livello personale più che professionale. E Francesco Danbelli lo abbraccia. Questa penetrazione, abbastanza stretta la difesa delle Fiamme Oro. Noi comunque stiamo giocando in maniera sicura perché abbiamo mosso palla subito la difesa, non abbiamo mai pensato di andare al piede. Bravo Billy. Buon possesso, ottimi sostegni fino adesso. E Ron completa una prima linea, parte Mirko Bergamasco al piede. Eccoli qua. E il boato del battaglini. I primi tre punti del campionato. Parte Carlo Canna per il pareggio. Sembra buono. Sembra buono. E finisce bene. Tre a tre. Non si sono capiti, Jeff ha cercato l'incrocio con Gawini che invece è rimasto ancora sul corridoio dei cinque per andare in bandierina. Uh, non è un problema, ci riproviamo. C'era un vantaggio per noi. A disposizione di Mirko Bergamasco. E centri pali Mirko Bergamasco, sei a tre al tredicesimo. Una grande lettura da parte dell'apertura delle fiamme oro Canna che se gli rimaneva un atto per un attimo in mano quel pallone non so dove lo andavamo a prendere. Ancora il vico, chip di Rodriguez per Mirko Bergamasco al piede. Mirko Bergamasco. Questa velocità e c'è la meta di Mirko Bergamasco che segna col salto. È il rimbazzo che tradisce. È diventato 49. La 49esima meta di Mirko Bergamasco. Giocolieri. Esatto. Stesso Bortolussi, prima di venire in Italia, Viadana era in procinto di andare nel Seven. Si prospettava una sua carriera nel Seven, poi decide di venire qua. Stato Mirko non va a terra e se ci va si rialza immediatamente. Marco Frati, Lucio Rodriguez, apre Savamasson, si inserisce. Attenzione, punta. Gioca all'esterno Matteo. Matteo Ferro non riesce a scaricare, però va da solo, va da solo. Matteo Ferro. E c'è la meta di Matteo Ferro. Va bene, va bene, bravo. Tanto parte Mirko Bergamasco. In continua crescita, anche fisicamente e atleticamente. Esce anche questo tentativo. Parte l'apertura romana. E infili i pali. Vediamo lo schema. Jeff Montariol. Riproviamo con il drive. Prima era andato abbastanza bene. E' buono l'abbrivio. Palla è dietro. C'è già il braccio fuori. Troviamo un buon angolo di spinta. Stiamo andando dentro. E siamo andati dentro. Bravi, bravi. Parte Mirko Bergamasco per la trasformazione. Problemi che potevamo avere l'anno scorso. E la tribuna a Quaglio. E questo entra. Urla. Ma ci sono grosse possibilità che l'apertura romana riesca a concretizzare questa possibilità. Così è 25-9. Di Stefano ovviamente in una posizione non regolare. Frattini, Frattini. Prova da solo, prova da solo Nicolò Frattini. Prova da solo Nicolò Frattini. E c'è la meta di Nicolò Frattini. Qui al stadio Mario Battaglini. Non ci poteva essere esordio migliore. Per l'apertura ferrarese. Non può giocare da terra. Così è, attenzione, Stefan Basson. Il drop. Per lui è una bazzecola a metterlo dentro. Nicolò Gatto al lancio. Lunga per Sebastiano Folla. Dentro per Giovannicher che trova un bel buco. Prova Andrea Bacchetti. A rincorlo. Però nulla da fare. E Giovannicher che mette segno la propria meta personale. Schema preparato. Oltre le due linee. Folla. Poi stretto per il taglio. L'ottima linea di corsa di Giovannicher. Con la sua potenza. Due anni fa. Essendo la prima giornata di campionato è normale. Bilinguini chiama. Chiama il pallone a largo. Però noi avanziamo col pack. Belli serrati. Belli chiusi. Belli, belli compatti. Nicola Gatto ha lo vale in mano. Andiamo ancora. Proviamo il giusto angolo per andare ancora più in là. Siamo vicini ai 5 metri. E' certo che ci andiamo più in là. E' certo che ci andiamo più in là. E ci andiamo più in là. Con la prima meta della pesarese Andrea Pozzi. Se porta a 49 lo scorra rosso-blu. non ci riesce ma non è un problema. E l'arbitro pone fine a questo match. Vittoria della VFMCZ al rugby Rovigo Delta. 47-9 sulle fiamme oro Roma. Il campionato comincia bene. Allora, no. fuel